Fiaip si è fatta promotrice di un'iniziativa di solidarietà a favore della città di Genova colpita dal tragico evento del 14 agosto e quindi sono iniziate una serie di attività con la realizzazione di 10.000 braccialetti con il logo di Genova nel cuore, brandizzati Fiaip. All'interno della città sono stati posizionati in diversi punti del centro dei gazebo dove i colleghi, agenti immobiliari, raccoglievano donazioni in cambio del braccialetto, quindi verrà raccolta una somma che il giorno 26 ottobre, quando ci sarà un convegno dove si parlerà della riqualificazione futura della città, ma anche dell'urbanizzazione, della viabilità, della logistica a livello nazionale, perché è un problema che poteva interessare a qualunque parte del nostro territorio, in quella giornata dicevo il Presidente nazionale consegnerà al Sindaco della città la somma raccolta. Noi abbiamo voluto realizzare questa giornata senza distinzioni di bandiere, di divisioni, di categorie, il nostro appello è rivolto a tutti gli agenti immobiliari, indipendentemente dalla loro appartenenza, perché quel giorno a Genova ci sia un segnale di solidarietà nei confronti di un territorio colpito gravemente e da parte di tutta la categoria degli agenti immobiliari.